Si è già messo a lavoro il nuovo direttore del distretto sanitario Pagani Sarno, Antonio Russo. In questi giorni il giro di ricognizione nelle strutture per individuare criticità e subito anche le soluzioni. Per inciso ho avuto un mandato specifico del direttore generale di curare in maniera uguale tutto il territorio, pur essendo io un sarnese però ci tengo ad avere una visione d'insieme dei problemi del nostro territorio per cui Pagani, Sarno, San Valentino e San Mazzano avranno una grande attenzione da parte mia. Tra l'altro la medicina di distretto e quindi quella ambulatoriale deve essere potenziata nell'ottica dell'organizzazione sanitaria che si vuole dare. Per non affollare gli ospedali si dà priorità alla medicina del territorio, alla prevenzione e ai controlli. Sicuramente l'obiettivo è quello che in sanità viene chiamata non appropriatezza delle prestazioni perché molto spesso ci si rivolge al posto sbagliato. L'obiettivo chiaramente è quello di evitare che le persone vadano in ospedale per qualunque cosa, per una cosa semplice ma anche per una cosa grave. Credo che l'ospedale deve essere un centro per le cose di una certa gravità. L'obiettivo chiaramente è quello di spostare l'attenzione dall'ospedale al territorio ma in particolare nell'ambito del territorio di andare direttamente a casa dei pazienti e quindi avere un approccio diretto nei luoghi di vita delle persone. Questo sarà fatto attraverso l'assistenza domiciliare che è un servizio che sarà potenziato al massimo. A proposito delle strutture dove sono allocati i servizi, ci sono esigenze particolari che ha già riscontrato? A Sarno il distretto è allocato all'interno del centro sociale, ci stanno alcuni servizi tipo il materno infantile, sarebbe il consultorio familiare e il servizio di salute mentale con la guardia medica che stanno in strutture in fitto. L'obiettivo che abbiamo è di centralizzare il tutto anche per ridurre i costi in modo tale che gli utenti si rivolgano in una struttura sola. La stessa cosa su Pagani, teniamo quest'unica struttura distrettuale a via Oliveil, mentre le attività ambulatoriali sono scuolte all'interno dell'ospedale. Intendo fare una verifica innanzitutto sui tempi di attesa delle prestazioni e fare in modo tale che il servizio sia reso nel più breve tempo possibile.